Appuntamento questo weekend con il teatro Ferrara Off, nuova iniziativa legata alla vittoria di un bando Under 35. Ecco di che si tratta, che cosa vedremo dunque questo weekend a teatro? Esatto, grazie al bando Si ha e si illumina per sponsorizzare un progetto Under 35 abbiamo creato questo spettacolo che si chiama Futuro Anteriore che debutta domani sera sabato alle 21 e replica domenica alle 17.30 e alle 21. Il tema è il futuro, quindi la vecchiaia vista da quattro giovani attori, abbiamo fatto questo tentativo e vedremo insieme se si riesce a ragionare su questo tema. Il cast è composto da Matilde Vigna, Gloria Giacopini, Matilde Buzzoni e Antonio Anzilotti De Nitto, la drammaturgia è curata da Margherita Mauro e la regia di Giulio Costa. Entriamo dunque nel dettaglio di Futuro Anteriore, che cosa vedremo dunque sulle scene di Ferrara Off? Vedrete quattro attori Under 35, abbiamo lavorato principalmente improvvisando, è stato molto bello il lavoro perché abbiamo creato una drammaturgia solo attraverso l'improvvisazione, quindi sono parole sempre diverse, sempre nuove e dove giochiamo a passare da un'età all'altra in maniera molto bizzarra. Tre appuntamenti però? Tre appuntamenti, sabato sera 21, domenica pomeriggio 17.30, domenica sera ore 21.